Movimento 5 5 Stelle, il caso di dire che il Movimento 5 Stelle si converte alle feste di partito a Pescara il 19 e il 20 settembre a Villa Sabucchi. Ci sarà questa festa, però voi avete detto in conferenza stampa che non sarà la tipica festa di partito. Sì, la prima edizione del Movimento 5 Festival, che in realtà è un festival dei cittadini e non del partito. L'abbiamo infatti organizzato e progettato in modo totalmente diverso. Ci saranno gazebbi, laboratori, scrittura creativa, storytelling, teatro per bambini. Sarà un'attività esperienziale continua in cui i cittadini potranno fare domande, chiedere informazioni e portavoce in Parlamento e Regione e Comune saranno totalmente a disposizione. Poi dalle 19, il 19 settembre, ci sarà Alessandro Di Battista, il nostro parlamentare, e il 20 settembre, sempre dalle 19, Carla Ruocco e Sorial, che saranno a disposizione sempre della città per rispondere a tutte le domande. Sarà una giornata, due giorni, dedicata al mondo che vogliamo colorare. E' questo lo slogan della nostra festa, del festival, e lo vogliamo colorare attraverso gli strumenti e colori che i cittadini ci metteranno a disposizione. Una ghiotta occasione per i cittadini di Pescara, visto che la festa si svolge proprio nel capologo adriatico, per porre le problematiche a voi del 5 Stelle che riguardano proprio la città. Esatto, per porre domande ma anche per togliersi dei dubbi. Noi invitiamo infatti non solo i simpatizzanti o gli attivisti del Movimento 5 Stelle, ma anche e soprattutto gli scettici che vogliano conoscere il nostro mondo, chi siamo, e fare tutte le domande che hanno bisogno di risposta. Noi ci siamo e saremo lì per due giorni e aspettiamo tutti.